Leonardo Silva Revisore Se poteste scegliere di viaggiare nel tempo, in qualunque anno, vorreste rivivere il passato o andare a vedere il futuro che ci attende? Questa è una domanda che mi piace fare spesso a persone molto diverse tra loro e in particolare quando parlo ad esempio con i miei studenti più sono giovani e più rispondono che non vedono l'ora di vedere come sarà il futuro, il futuro che li attende. Se invece lo chiedo a persone più vicine all'età dei miei genitori tendono a rispondere che vorrebbero rivivere il passato probabilmente perché conoscono molto bene quegli anni, hanno anche un po' di nostalgia. La verità è che il passato lo conosciamo molto bene. Per darvi un ordine di grandezza, tutti i contenuti che ha creato l'uomo dall'origine dei tempi al 2003 sono circa 5 exabyte di contenuti e un exabyte è un miliardo di gigabyte che probabilmente è un ordine di grandezza che conoscete meglio. Tra l'altro questa quantità di informazioni continua a crescere in maniera esponenziale nel 2013 5 exabyte di contenuti venivano creati addirittura ogni 10 minuti. Quindi il passato lo conosciamo veramente bene. Abbiamo un grandissimo punto interrogativo sul futuro, quindi il tema è capire come ci immaginiamo questo futuro. In realtà ci si divide sempre tra due scenari tra loro alternativi. Ne approfitto per chiedere a voi, chi di voi è ottimista sul futuro? Per alzata di mano. Chi di voi invece è pessimista e si aspetta che gli anni venire saranno più negativi di quelli presenti? Ok, molto interessante. E un'altra domanda, quale sarà il ruolo della tecnologia nel determinare il nostro futuro? È evidente che la tecnologia sarà ovviamente la chiave di volta per andare in una direzione rispetto che nell'altra. Ma quanto noi stessi come singoli individui possiamo influenzare il futuro del mondo? Noi siamo veramente in grado di influenzarlo come singoli o siamo solo una persona su 7 miliardi e mezzo, quindi siamo talmente piccoli da non poter creare un impatto? In questi giorni abbiamo visto l'apertura dei telegiornali, un video particolarmente forte, che è stata la morte di un orso polare che dopo settimane che cercava cibo è venuto a mancare proprio per il suo riscaldamento globale che ha sciolto il ghiaccio e non gli ha permesso di ritrovare nutrimento. Quindi davanti a questi eventi come ci sentiamo noi? Cosa pensiamo di poter fare davanti a qualcosa che è talmente lontano dalla nostra quotidianità come il suo riscaldamento globale? Probabilmente la risposta più normale sarebbe io non posso fare niente per un tema così grande e spetta magari ai governi o organizzazioni più grandi. C'è dunque chi ipotizza un futuro apocalittico, anche perché io personalmente rappresento la generazione che è cresciuta con vent'anni di telegiornali con notizie tendenzialmente negative. E quale effetto pensate che abbiano vent'anni di telegiornali con notizie negative? È stato dimostrato che anche facendo alcuni esperimenti sui social media, mostrando a alcune persone dei contenuti tendenzialmente negativi, dopo un po' di tempo anche i contenuti da loro creati avranno un umore più negativo. E guardando un pochino i film con i quali siamo cresciuti, cosa succede quando la situazione diventa troppo grave? La soluzione ci hanno insegnato che essere quella di chiamare qualcun altro. Chi andiamo a chiamare? Andiamo a chiamare i supereroi. La soluzione la riserverà qualcun altro. Verrà qualcuno con qualche potere speciale per andare a sistemare la situazione. Chi di voi da piccolo non ha pensato almeno una volta di essere un supereroe, almeno giocare a fare supereroi. Lui ad esempio è mio nipote e qualche giorno fa sono andato a trovare mia sorella gemella, sua mamma e la mia famiglia e l'ho trovato sul divano che giocava a fare supereroi. Penso addirittura da solo riusciva a fare sia il buono che il cattivo. E questa cosa mi ha molto colpito perché quando siamo piccoli a noi piace giocare a supereroi. Vediamo che è un qualcosa che crediamo essere realistico. Ma poi col passare del tempo perdiamo i nostri poteri e li perdiamo perché purtroppo tutti noi viviamo all'interno di una bolla, una bolla quotidiana. Purtroppo facciamo spesso fatica a uscire dal nostro contesto, al nostro giro di amicizie, all'ambito del lavoro, anche al giro di fonti alle quali andiamo a prendere notizie. E tutto questo quindi tende un pochino ad affiattire anche la nostra considerazione sul resto del mondo. Noi pensiamo che la maggior parte del mondo sia simile a quello che vediamo, quello che sentiamo in base ai media che consultiamo. Poi cosa è successo? Un giorno un mio amico mi manda un link con un articolo. E l'articolo diceva il futuro è meglio di quanto credi. Questo titolo ha subito attirato la mia attenzione e ho cominciato a studiare questi temi. Nello studiare questi temi ho letto un libro di Peter Damantis sull'abbondanza, che è un termine che all'inizio non mi era molto familiare, non lo capivo nel suo vero significato. E una frase importante è la tecnologia è quella forza che prende qualcosa di scarso o inaccessibile e lo rende abbondante. Continuando a studiare sia il libro che altri temi, un'altra frase mi ha chiarito il concetto. Quando guardiamo attraverso le lenti della tecnologia, poche risorse sono veramente scarse, sono semplicemente inaccessibili. Tra i vari esempi ne vorrei raccontare uno che per me sarà abbastanza illuminante e risale addirittura ai tempi dell'imperatore Tiberio. Un importante orafo decise di portare in dono all'imperatore Tiberio un piatto in alluminio, che era un materiale che nessuno conosceva e lui diceva di essere riuscito ad estrarre questo nuovo minerale direttamente dall'argilla attraverso una formula segreta. Il problema era che Tiberio aveva la maggior parte dei suoi tesori composti da oro e argento. Quindi ha detto, se arriva un nuovo materiale, più leggero ma luminoso tanto quanto l'argento, se prende piede probabilmente andrà a svalutare i miei tesori. Quindi dopo averci pensato un pochino, ho deciso che il dubbio è taglio la testa a questo scienziato. Quindi elimino il problema, elimino una formula segreta e rimango, blocco un pochino per qualche migliaio di anni l'innovazione. Il problema è che l'alluminio, oggi sappiamo, che è probabilmente il terzo minerale più presente nella crosta terrestre mondiale. E quindi il problema non è la scarsità della risorsa, mancava semplicemente la tecnologia per renderla accessibile. Quando ho letto questo passaggio, la mia prima considerazione si è rivolta al mondo dell'acqua. Ci sono un miliardo di persone nel mondo che non hanno accesso a acqua da poter bere quotidianamente. La metà dei ricoveri ospedali del mondo sono dovute a persone che hanno ingerito un'acqua non potabile. Eppure sappiamo che la terra è composta principalmente d'acqua. Quindi manca la tecnologia per renderla disponibile e potabile in tutto il mondo nel modo migliore. E un altro passaggio di questo libro mi colpì particolarmente. Ed è quando parlarono della democratizzazione del potere di cambiare il mondo. Quindi non dobbiamo più aspettare supereroi. Ciascuno di noi può fare qualcosa di assolutamente impattante per cambiare il mondo. E ho scoperto che esisteva una realtà che si chiama Singularity University che forma persone in tutto il mondo, gli insegna cosa sono le tecnologie esponenziali e gli chiede di lavorare su progetti che impattino un miliardo di persone nei prossimi dieci anni. Quindi mi è bastato uscire semplicemente dalla bolla quotidiana all'interno della quale vivevo per trovarmi catapultato in un mondo completamente nuovo. Sono stato selezionato nel 2015 e ho fatto un breve programma con loro. Quindi fisicamente eravamo nel centro di ricerca della NASA in America e in Silicon Valley e in effetti appena arrivati lì ci hanno subito chiesto un cambio di approccio, un cambio di paradigma. Ti dicono smettila di lavorare su dei progetti piccoli o medi si erite a un tavolo, ciascun tavolo rappresenta uno dei grandi problemi dell'umanità, posso problema dell'acqua, dell'ambiente, del cibo, della salute, dell'energia e lavora una soluzione che impatti un miliardo di persone in dieci anni usando le tecnologie esponenziali. Credo che la prima reazione di chiunque sia io non potrò mai lavorare su un progetto di questa grandezza. Però ti dicono ok, riuscirai a farlo se impari a usare queste tecnologie che altri speaker prima di me hanno raccontato. Oggi non vi racconterò la mia esperienza della Singularity ma ci terrei a riassumere un pochino alcune cose che mi hanno particolarmente colpito. In particolare ho capito che realmente bastano poche persone per cambiare il mondo. Oggi delle persone hanno la possibilità, i mezzi e anche le tecnologie per fare una differenza concreta. Ciascuno nel suo piccolo può cambiarlo anche con pochi strumenti o relativamente poco tempo. Questa è una foto di una ragazza che poi è diventata una mia cara amica, Lucrezia Bisignani, che ha capito che solo nell'Africa ci sono 166 milioni di bambini che non hanno accesso all'istruzione, l'istruzione è quella di base, quindi non sono analfabeti. E servirebbero un milione e mezzo di docenti per andare a insegnare a questi bambini. Il problema è che questi docenti dovremmo istruirli e mandarli nei posti più pericolosi del mondo e meno accessibili. Quindi ha trovato una soluzione tecnologica e sta lavorando a un'applicazione che si può distribuire in Africa e magari anche in altre parti del mondo per aiutare questi bambini. Torniamo dunque alla domanda di prima. Cosa possiamo fare noi per risolvere sfide così grandi? Ora forse incomincia a essere un po' più chiaro quale può essere il nostro ruolo attivo. E sono convinto che quando la competenza incontra la conoscenza si realizzano progetti magici. Partiamo dalla conoscenza. Un ragazzo a un certo punto ha scoperto che per risolvere il problema dell'orso, quindi del suo riscaldamento globale, è più facile intervenire nel bloccare il fenomeno della deforestazione, che pesa per il 17%, rispetto a provare a cambiare dalla sera alla mattina il problema del mondo dei trasporti, che pesa per il 13%. E lui ha detto che ci sono tantissime foreste tropicali a rischio e vorremmo evitare che questi scenari diventino dei scenari apocalittici. Come possiamo farlo? E' andato in una foresta e si è reso conto che le persone che vanno abusivamente a tagliare gli alberi possono farlo anche in maniera molto molto vicina ai ranger che dovrebbero controllare anche 200 metri o 300 metri, non verranno mai colti in flagrante perché la foresta è piena di rumori di sottofondo e non si sente il rumore della sega. Quindi una volta che lui ha scoperto queste informazioni, la sua competenza l'ha portata a dire va bene, perfetto, prendo un semplicissimo telefono cellulare, neanche di ultimissima generazione, lo faccio diventare un'antenna e questa antenna farò in modo che possa mandare dei segnali al ranger di turno se riesce a sentire il rumore di coloro che stanno tagliando gli alberi. Ha creato il primo sistema di protezione delle foreste in real time ed è incredibile perché ha generato risultati immediati, continuativi e soprattutto scalabili e questa cosa l'ha fatta anche grazie al potere della rete perché una volta che lui ha raccontato questa idea e l'ha dimostrata spontaneamente dalla rete hanno cominciato a mandargli i telefoni che tutti noi teniamo nei cassetti quando compriamo il modello successivo. La parte che mi piace di più di questa storia è che non si è inventato una nuova tecnologia. Ha semplicemente capito come utilizzare una tecnologia che tutti noi abbiamo in tasca per una finalità diversa. Mi ha colpito molto prima l'intervento di Papa Francesco quando ha parlato che per cambiare il mondo bisogna essere creativi e ho subito pensato alla creatività di questo giovane ragazzo che ha visto in un problema una soluzione particolarmente semplice ed efficace. Il potere della rete è incredibile da questo punto di vista perché ciascuno di noi può fare la differenza con le tecnologie quotidiane già in nostro possesso ma soprattutto andando ad attivare una community di persone che gli possono dare supporto anche senza conoscerlo semplicemente perché si appassionano a un'idea. E vi racconterò adesso rapidamente un altro esempio recente non più di 40 giorni fa c'era una ragazza che a Filadelfia di notte è rimasta ferma con la macchina perché aveva finito la benzina in una zona abbastanza pericolosa gli si è avvicinata l'unica persona in zona che era un senza tetto Johnny e Johnny le ha detto non ti preoccupare chiuditi dentro la macchina torno subito è tornato e ha speso gli ultimi 20 dollari che aveva per comprare una tannica piena di benzina ha fatto la benzina la ragazza lei poi ha detto troverò il modo per sdebitarmi i giorni a seguire è tornata gli ha arrivati i soldi gli ha dato dei vestiti gli ha dato di volta in volta pochi dollari e poi ha detto no devo fare qualcosa di molto più grande quello che ha riuscito a fare è attivare una campagna di 30 giorni ha coinvolto 10.500 persone che alla fine hanno raccolto in questo articolo si parlava di 320.000 dollari la cosa ancora più bella è che quando si attivano delle strategie basate sul bene in realtà continuano ad andare da sole quindi da quando il giornalista ha scritto l'articolo a quando io ho consultato l'ultimo dato da 320.000 siamo già sediti da 400.000 credo ci siano anche grandi margini di miglioramento perché quella ragazza non era esperta di queste strategie e dopo 30 giorni ha deciso di chiudere la campagna e finire lì secondo me quando si innesca un brano positivo si possono fare cose veramente meravigliose purtroppo la tecnologia è una moneta a due facce questa è un'altra cosa che ho capito molto bene perché esistono ad oggi un miliardo di persone che non hanno accesso a quelle che vengono chiamate all season roads strade che possono essere percorse durante tutto l'anno in qualunque stagione c'è una parte del mondo in realtà una persona su sette che quando c'è un alluvione pesante o una frana vengono scollegate dal resto del mondo e le nuove tecnologie come i droni ci permettono di portare loro acqua cibo medicinali anche quando fisicamente le sale sono interrotte la stessa tecnologia del drone però può essere usata anche per finalità diverse in questo caso questo è un drone al quale hanno aggiunto una semplicissima telecamera termica che può andare in giro a scansionare il territorio e rendersi conto se in un appartamento in un determinato edificio la temperatura della stanza è più alta rispetto alla media vuol dire che in quell'appartamento stanno producendo droga voi potreste dire bellissimo è una tecnologia utilizzata dalla polizia per controllare il territorio no è un qualcosa che ha ideato la criminalità organizzata in Messico per controllare il territorio questo vuol dire che la tecnologia è ovviamente una moneta a due facce e la criminalità organizzata non vuole più guadagnare in maniera lineare e vuole guadagnare in maniera esponenziale quindi sta investendo in maniera molto molto importante su queste tecnologie quindi sta a noi prendere parte al cambiamento e decidere da che parte stare un'altra riflessione molto importante che abbiamo fatto in America è che fatta a cento la popolazione mondiale è abbastanza evidente che possiamo dire 95% sono persone che potremmo definire persone buone persone che se potessero dare una mano la darebbero magari il 5% sono un po' più malvaggi anche per magari storie pregresse che hanno avuto nella loro vita il vero problema quando un consulente dei servizi segreti ci ha raccontato questa storia che noi in mondo siamo principalmente persone per bene gli ho però fatto notare che noi possiamo essere persone per bene ma se ciascuno di noi è chiuso nella nostra bolla è come se non fossimo forza lavoro dedicata al bene esistono invece ci hanno fatto vedere da satelliti interi edifici di migliaia di persone che timbrano il cartellino per fare l'hacker per fare delle rapine informatiche quindi non basta dire che la maggior parte di noi persone per bene dovranno andare a conteggiare la forza lavoro quindi quanti lavorano per il bene e quanti realmente lavorano per creare un danno quindi sono convinto che chi non prende parte purtroppo è come se stesse danno un piccolo vantaggio ai cattivi quanti di voi vorrebbero dunque realmente fare qualcosa per cambiare la vita che vi circonda in questo caso ho preso una foto di Vito Margiotta che è un ragazzo che ho conosciuto recentemente che ha mollato il suo post in Google per creare una nuova tecnologia per portare paesi meno avanzati online il problema dei nostri tempi secondo me il vero male che tutti con il quale tutti noi dobbiamo diciamo affrontare ogni giorno sono la fretta e la distrazione continua dobbiamo fare troppe cose e siamo costantemente distratti e quindi come possiamo cambiare il mondo se siamo continuamente distratti pensiamo al passato non vediamo l'ora che sia il futuro stiamo un pochino perdendo la capacità di creare azioni concrete nel presente quindi la risposta principale non ho tempo di fare una cosa a fin di bene e da questo punto di vista sono convinto che l'unica soluzione sia metodologica personalmente ho trovato una metodologia che è quella di dedicare due ore al giorno sistematiche allo studio del mio lavoro di cui oggi non vi ho parlato perché non era il caso ma cerco di fare due esperienze l'anno di crescita personale che non siano legate al mio lavoro cerco di uscire dalla bolla almeno due volte l'anno ad esempio se non guardassimo la televisione per un intero anno a livello mondiale si libererebbe più di un trilione di ore di surplus cognitivo da dedicare a qualcos'altro e stiamo parlando della televisione io che ho creato una piccola realtà nel mondo dei social sarei la persona meno adatta a dire quello che sto per dire ma sono convinto che la stessa riflessione la potremmo fare sul mondo dei social media ai miei studenti dico sempre che la tecnologia deve sempre essere qualcosa a vantaggio dell'uomo e mai diventare noi schiavi della tecnologia quindi ad esempio gli ho dato una regola se voi su facebook o su qualunque altre social vedete per tre volte consecutive lo stesso contenuto quindi fate refresh e rivedete lo stesso contenuto uscite da facebook perché è finita l'utilità marginale del vostro tempo su facebook probabilmente starei perdendo tempo ma il tempo l'avete quindi alla terza volta vedete quel contenuto andate su stili tipo ted.com a cercare uno stimolo e in effetti si dice che siamo la media delle cinque persone con le quali passiamo più tempo e mi piacerebbe pensare che una di queste cinque persone un domani fosse una persona tecnologica fosse una fonte fosse un ted di ritorno o comunque un luogo dove prendere informazioni interessanti io chiudo con un'ultima riflessione alla quale diciamo ho pensato spesso dopo che ho partecipato a un piccolo programma di Hive Globalism Forum presso Harvard e ci hanno detto immaginate di essere alla fine dei vostri giorni su una panchina al mare e vi si siede a fianco vostro nipote vi guarda e vi dice nonno qual è la cosa più importante che tu hai fatto nella tua vita tu sei costretto a pensare cosa veramente hai fatto se hai generato un impatto quello è l'inizio di un esercizio che ci hanno fatto fare che poi ti porta a pensare cosa avresti voluto fare nella tua vita quindi da qua in avanti come genero un impatto come sarebbe il mondo se non fossi mai nato e quali sono gli ostacoli che ho nel quotidiano per arrivare da quello che sono a quello che vuole arrivare e vi volevo lasciare con questa riflessione ma soprattutto con una frase che ho scoperto una settimana fa da uno studente in questo scambio continuativo di informazioni che se non si rischiasse ma nella vita Michelangelo avrebbe ripinto il pavimento della Cappella Sistina quindi vi lascio con questa ispirazione e vi ringrazio grazie grazie grazie